Marco Riva, responsabile impianti di Bennett. Come strutturate la vostra organizzazione relativamente alle tematiche energetiche così care nel campo della GDO? Buongiorno a tutti. La gestione consapevole della vasta tematica energetica può permettere di raggiungere notevoli risultati nella competitività e nella sostenibilità dell'azienda perché riduce di molto le bollette energetiche che sono una delle principali voci di costo. Per far questo ci siamo strutturati internamente con focus su tre pilastri, il primo dei quali è l'analisi periodica dei consumi energetici. È importante che gli impianti nel tempo continuino a consumare quanto previsto, quindi dal confronto del consumo previsto in quelle condizioni calcolabile tramite un'opportuna curva di regressione e quanto effettivamente è consumato si capisce dove sono le eventuali deviazioni dal consumo previsto e si corregge con efficacia questi consumi anomali. Fondamentale è avere una diffusione nei contabilizzatori di energia per individuare settore impiantistico o apparecchiatura. Un'altra cosa molto importante è una gestione corretta, cioè utilizzare le utenze veramente quando servono e altrimenti porle in off. Quando le utenze sono tante anche qua viene necessario un controllo automatico. Una riflessione che scaturisce degli impianti di rifrigerazione alimentare di climatizzazione che oltre allo stato on off proprio di tutte le apparecchiature hanno anche quello di funzionamento degradato con basso rendimento energetico e quindi con elevati consumi. Per individuare queste anomalie è necessario avere opportuni KPI energetici perché non è affatto facile individuarli, ma da questo controllo si può ricavare un 20% o almeno anche 30% dipende dalle situazioni di risparmio. Quindi un primo messaggio importante che mi sento di dare è utilizzare al meglio gli impianti che si hanno. E questo si fa non nell'infimera convinzione di risparmiare tagliando la manutenzione, ma progettandola e investendola solo ed esclusivamente dove veramente serve per mantenere gli impianti in efficienza. Un secondo pilastro è quello dell'efficientamento energetico, ovvero con studi costi benefici si cerca di sostituire impianti e apparecchiature al raggiungimento del termine della vita utile, cioè quando i costi di acquisto, esercizio, quindi manutenzione ed energia lo consentono e non al termine della vita fisica. E un ultimo capitolo che in fondo è quello più semplice è quello dell'efficientamento energetico puro, cioè aggiungo impianti quali per esempio le impianti fotovoltaici o componenti, quali ad esempio la chiusura dei banchi frigoriferi, che non sono strettamente necessarie ad esercire l'impianto, ma possono permettere un vantaggio economico. In questo caso procedo nel farlo. Un tratto che accomuna tutti questi tre pilastri è la grande passione e la grande competenza che il fattore umano deve esprimere in ogni fase. Il vero efficientamento si ottiene solo giorno per giorno, lavorando con coerenza e con continuità. Da ultimo ritengo che un'organizzazione come quella accennata possa essere veramente sostenibile in termini economici, cioè i costi per sostenerla sono largamente ripagati da un ordine di grandezza superiore dai risparmi energetici conseguiti. Qualche numero. In otto anni siamo riusciti a diminuire in tutta la catena del 25% le emissioni di CO2, di quasi altrettanto i consumi energetici e da ultimo, nell'ultimo intervento, a prendere, grazie all'approvazione del GSE, 320 mila euro di finanziamenti dal conto termico 2.0.